Al via da aprile per i prossimi mesi opere pubbliche a figline incisa dal costo di milioni di euro. La prima in ordine cronologico sarà il restyling completo di via Olimpia ad Incisa. Lì dove sorgeva il campo da calcio verrà completamente rivista l'area con giardini pubblici e nuova viabilità. Si apriranno i cantieri su via Olimpia ad Incisa per il completo rifacimento del campo sportivo vecchio che ormai è in condizioni davvero molto degradate e che quindi necessita di un completo rinnovamento e poi tutto l'intervento riguarda l'area giochi prospicente, il campo sportivo e il parcheggio antistante. Quindi un intervento complessivo da 970 mila euro che andremo a realizzare già da aprile. A primavera inoltrata invece i lavori si concentreranno alla scuola media Da Vinci di Figline, l'istituto al centro della città sul quale è stato investito un milione di euro. È la scuola media centrale del paese, la frequentano davvero tantissime centinaia di ragazzi e per noi è fondamentale poterla mettere in sicurezza ma non solo perché l'intervento da più di un milione di euro prevederà sì la messa in sicurezza ma anche l'efficientamento dal punto di vista energetico con la possibilità proprio di modificare tutti gli impianti, rinnovarli e modificare e rinnovare anche gli infissi in maniera tale da garantire un risparmio energetico importante e quindi anche una diminuzione del costo delle utenze. Entro il 2018 poi soldi anche per i giardini pubblici. E sono quelli che riguardano per più di 100 mila euro il verde pubblico e le aree giochi perché diverse aree giochi saranno completamente rinnovate, in particolare quella di Gaville, quella di Porcellino, quella su Matassino che ha già visto completamente rifatta l'area per i nostri amici a quattro zampe e continueranno gli interventi anche per rendere più inclusive le aree verdi, quindi abbattendo le barriere architettoniche. Occhio anche alle strade con 200 mila euro già stanziati ed altri che verranno immessi per la sistemazione degli asfalti. Purtroppo la programmazione e i 200 mila euro forse non saranno sufficienti, dovremo incrementare il capitolo proprio perché questi giorni di pioggia, neve e di cattivo tempo hanno generato numerosissimi danni ai nostri asfalti.